Obiettivo eccellenza per la Castellana che ieri agli ordini di mister Alessandro Cobelli ha cominciato a lavorare in vista del prossimo torneo di promozione. Si riparte dal quarto posto dello scorso anno con la consapevolezza di essere la grande favorita per la vittoria del campionato. Colpi importanti messi a segno dal DG Alessandro Novellini tra i principali Fai e Pape, Pizza e Bonaccorsi dall'ospitaletto e Favagrossa dall'asola. In società è tornato anche Bruno Bompieri che non ha usato mezzi termini nel fissare gli obiettivi biancazzurri. Non vorrei andare in desiderese, dopo il sacro del calcio è necessariamente scritto, qualcuno questo l'anno scorso però mi sono fidato molto di Novellini che conosco bene, un caro amico e penso che abbia fatto una buona squadra. A mister Cobelli dunque il compito di far rendere al meglio una rosa di spessore. Ecco la sua ricetta per raggiungere gli obiettivi. Sappiamo che dobbiamo pedalare, che dobbiamo stare zitti, dobbiamo stare umili e questo è il mix che ci serve per fare il miglior risultato possibile. Se poi sarà la promozione è meglio perché è quello che ci auguriamo tutti. Sicuramente la società ha fatto un'ottima squadra, è inutile girarci attorno, la società ha fatto degli investimenti, ha comprato dei giocatori importanti e quindi è chiaro che noi abbiamo l'obbligo di provare a vincere. Poi con le parole ad agosto non si vince mai niente, quindi sappiamo che abbiamo un'ottima squadra, sappiamo che il campionato è duro, sappiamo che ci sono altre squadre a Pavonese, Orceana e le Mantovane che hanno fatto squadre importanti, però noi partiamo con ambizione.